Però ha detto che o scegliete noi del Movimento 5 Stelle o gli altri che sono la Tangentopoli B, se ci ha messo in mezzo quindi anche voi del territorio democratico. È talmente... è proprio una cosa stupida quella che ha detto, perché dovrebbe portare me a fare l'elenco di tutte le indagini che ci sono state su sindaci, amministratori, anche a Roma, di esponenti delle 5 Stelle, a partire dal Presidente del Consiglio Comunale o a sindaci sotto indagine. Ma io non lo faccio perché sono una persona civile e credo che noi dobbiamo difendere i cittadini, difendere la giustizia italiana e non usare la giustizia italiana per fare un favore ai propri partiti. Ecco, quello che non ci serve sono proprio gli atteggiamenti ipocriti di chi dice queste stupidaggini facendo e teorizzando una giustizia di partito, per cui quando gli accusati sono dei 5 Stelle possono rimanere a fare il proprio dovere, quando invece sono degli altri partiti al primo avviso di garanzia sono dei condannati. La giustizia di partito non è giustizia, è polemica elettorale che non fa bene alla giustizia e quindi dimostra ancora una volta che della risoluzione dei problemi o sulla risoluzione dei problemi ha poco interesse, ma punta solo a catturare con l'emotività il consenso delle persone, anche con enormi contraddizioni, come quando dice che è una vergogna che il Ministro Salvini è alleato con i neonazisti ma poi gli permette con i voti di fare il Ministro degli Interni della Repubblica Italiana. è un quacerbo di contraddizioni che peraltro lo portano spesso a dire un giorno una cosa e il giorno dopo il contrario di tutto. Ci avete 12 telegiornali.